Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, qualche ieri e quest'oggi siamo tornati su Bombergrounds Questo gioco mi piace un sacco come avete capito molto facilmente, sono quasi a 1200 coppette, sto avanzando, sto triardando Come al solito giochiamo in live, di solito il pomeriggio verso le 5 e ci becchiamo ragazzi Sto avanzando con voi, gioco con voi e come sapete vi accetto l'amicizia a tutti quanti, guardate quante amicizie che ci sono qua da accettare Ce ne sono un sacco, ve le sto accettando tutte quante Riscattiamo pure le nuove eventi così ci prendiamo un po' di bombette e stiamo avanzando con il pass, siamo a livello 18 Ma oggi di cosa parliamo ragazzi? Oggi parliamo di come scaricare Bombergrounds su PC e poi si può pure collegare l'account Quindi avere il vostro account che usate dal vostro telefono, dal vostro iPad e collegarlo pure nel computer Ma come scaricarlo nel computer? La domanda principale di oggi, vi mostro il metodo per scaricarlo dal PC e per giocarci, è una cosa molto molto carina Però prima di iniziale volevo farvi vedere un po' di cose che sono successe al mio account, ci facciamo pure un game Allora come vedete ho delle skin, tutte queste skin erano del mio vecchio account Perché una volta avevo un account di due anni fa su Bombergrounds Sono riuscito a recuperarlo grazie agli sviluppatori del gioco che mi hanno aiutato un sacco per prenderlo Finalmente ho di nuovo tutte le mie skin e avevo un botto di skin, queste skin sono davvero molto carine Queste skin sono un sacco belline che valgono un botto, un botto di gemme ed è una cosa molto carina che finalmente sono riuscito a riottenerle Ma ragazzi vi lancio una mega sfida per questo video Arriviamo ragazzi a 30 like, raga, pazzesco 30 like e shoppiamo questa offerta speciale da 3,50 euro, cose pazzesche Megacassa, 600 gemmozze e soprattutto 30 gemme che è la cosa principale Così poi io potrò shoppare anche il pass, questo pass, perché io ho shoppato il pass della beta Ma quello del rilascio globale non l'ho ancora potuto shoppare Facciamoci un game in battaglia reale Beh ragazzi cosa dire, mentre ho iniziato a registrare hanno giustamente chiuso i server Let's go! Beh ragazzi come dire, sono passati più di un'ora e mezza per fare questo video Perché giustamente quelli di Bombergrounds hanno deciso di chiudere i server per più di un'ora e mezza E mi ha pure disconnesso dall'account Finalmente siamo tornati nel mio account che mi era esploso tutto quanto Prendiamoci qua gli eventi, stavo dicendo, e facciamoci magari un game Abbiamo pure delle monete gratuite oggi, cose molto strane Ma raga, che skin pazzesco ho appena visto Che skin pazzesco ho appena visto Ma è bellissima Ho chiaro che startata subito dopo questo game vi mostro come scaricare Bombergrounds da PC Da computer, sui vostri dispositivi computer quindi sia per i dispositivi Windows Ma pure per i dispositivi iOS Quindi su qualsiasi piattiforma da PC Ho preso pure danno perché non stavo guardando La situazione è molto, molto complessa Ok qua con la mia bellissima skinnetta Qua c'ho i due banni che se la combattono Io devo stare attento Qua c'è un orsetto che mi sta, mi sta inseguendo Rischiosa quando l'avevo vista quella bomba Stuk L'ho hittato Raga gli manca pochissimo Ha pochissima vita Lo devo killare Lo devo killare Vieni qua Vieni qua Samu Dai che vado verso l'hit Vado verso l'hit ma no Qua 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 stanno fedando fra di loro Stanno fedando fra di loro Stuk Gli ho dato un hit a un banni Ci sono due banni Me ne devo scappare Devo scappare Devo scappare Devo scappare La situazione non è affatto buona La situazione non è affatto buona Devo scappare il prima possibile Qua c'è un altro sacchiotto Perfetto Mi prendo sta star Qua là c'è il pugno L'ho avrei potuto prendere Oh chi è questo qui Chi è questo qua che lo devo killare Che ha poca vita Stop No non mi stoppo Stuk Danni a vicenda Di nuovo Vience Vience stop Non mi fermerò mai Vieni qua Mi faccio il giro Faccio il giro Ok Non capisco cosa vuole fare Non capisco cosa vuole fare Vieni qua Stiamo giocando al labirinto Stuk No raga Adesso lo è in vantaggio Lo è in vantaggio Ok Io ho fatto a sprecare pure a lui Lo inseguo Lo inseguo subitissimo Vieni qua stop Come stai recuperando vita Vience qua Vieni qui Stuk L'ho hitato L'ultima hit mi manca L'ultimissima hit Non ci credo Non ci posso credere Me l'hanno rubato Mi hanno rubato la kill Non ci credo Non ci credo Sono rimasto contro il bunny Che è pieno di stelle Ragazzi se lo killo Se lo killo Vabbè è niente È niente ragazzi Ci ho provato Ci ho provato Era infattibile Era totalmente infattibile Ho fatto una giocata orribile Ma comunque Comunque ci siamo 8 coppetti Siamo arrivati secondi Camperando e giocando In modo orribile Ma comunque ragazzi Io direi di iniziare a mostrarvi Questo bellissimo Questo bellissimo metodo Per ottenere Bombergrounds Da pc Ora andiamo subito A mostrarvelo Ok ragazzi Siamo nel pc In questo momento Bisogna andare in una zona Ben precisa Questo qua steam Bisogna scaricare steam Se non sapete come scaricare steam È molto semplice Basta andare su chrome Su qualsiasi altro motore di ricerca E cercare steam Da là lo potete scaricare E creare un vostro account Appena avete scaricato il gioco Questo bellissimo giochino Che in realtà è un sito Per scaricare un sacco Un sacco di app Lo potete schiacciare Ok ragazzi Appena saremo all'interno È tutto molto semplice Bisognerà andare ragazzi Nella sezione in alto a destra Cioè nella sezione negozio Appena sarete in questa zona Basta andare qua Dove c'è scritto cerca E cercare Bombergrounds Vi comparirà È uno dei primi Bombergrounds Reborn Scarica gratis E lo schiacciamo subitissimo Ragazzi Appena l'avete schiacciato Ci entra in questa zona Molto carina Siamo in questa zona Dove ci mostra tutto il video Dove ci mostra tutto il video Del gioco Dove come si fa Come funziona Tutto quanto Ma soprattutto Qua sotto ci dice Free to play Avvia il gioco L'unica cosa che noi Dovremmo andare a fare È schiacciare Giustamente Avvia il gioco Fatto ciò ragazzi Steam Ci avverrà il gioco Ecco qua ragazzi Se lo sto aprendo Perfetto Siamo su Bombergrounds Adesso non facciamo Un gameplay di Bombergrounds Qua da Dal computer La grafica da computer È davvero stupenda Ok ragazzi Siamo riusciti pure A entrare nel mio account Esatto Sì siamo nel mio account Troppo bellina Come cosa Che bello Il mio account da pc È davvero bello grande Ed è davvero La stessa identica cosa Ragazzi Quindi Già vi ho detto Bisogna andare su Steam Scaricare Cercare Bombergrounds Reborn E riuscire a scaricare Il gioco In modo totalmente Gratuito Ok siamo tornati Nel mio vero account Facciamoci subito Un game Così per concludere Mi raccomando Iscrivetevi E lasciate un bel like Ragazzi Per altri video tutorial Su Bombergrounds Per sapere nuovi trick Nuovi consigli Su questo gioco Ok siamo startati Come al solito Mamma mia Andiamo sempre Poi in alto In alto In alto Comunque in un prossimo video Vi mostrerò Prima che verrà Aggiunta al gioco Ragazzi Che nessuno sa Qual è questa nuova mappa Ma io ho scoperto Esattamente qual è La nuova mappa È molto carina Vi dico solamente questo Prendiamoci qua le stelline Che già siamo La prima star Perfetto Ci spacchiamo tutte Ste cassette Molto tranquilli Che qua in realtà Non abbiamo trovato Affatto niente Prendiamoci sto punch E prendiamoci altre stelle Già siamo alla seconda star Meno male Bene Qua rubiamo le stelline Degli altri Molto molto bene Altro medikit C'è la speed La voglio prendere Invece me l'ha rubata Il pipistrello Chilliamo il pipistrello Lo killiamo? C'eravamo quasi per killare Il pipistrello C'eravamo quasi Stuck Ho fatto tantissimi kill Ho fatto tantissimi kill Ti prego Double kill Stavo per fare una terza kill Ragazzi Qua sotto a Arbani Vieni qua Banni Vieni qua ormai sei da mio Sei mio Sei mio Non puoi andare via Non andare via Vieni qua per favore Ok ho killato anche il Banni Qua c'è Lemonk Lemonk ha lo stesso identico nome Di Hermonk Di Clashmini Ma non so se riusciremo a fare Qualcosa di utile Bene bene Hermiao ha già poca vita Gli facciamo un altro hit Altre due hit Vieni qua Vieni qua Non scappare Stuck Killato anche il Miao Mamma mia siamo a 4 kill ragazzi Devasto oggi Devasto in questa partita Stiamo facendo davvero davvero il devasto Qua c'è Lemonk Vieni qua Lemonk Vieni qua Lemonk Stuck Cosa sta succedendo Mi ha dato un punch Mi ha dato un punch Mi do un altro hit Vieni qua Stuck Killato mamma mia ragazzi Siamo alla quinta kill Finale Finale contro lui Che la vedo molto malina Molto malina però Devo scappare Devo scappare Lui se la sa giocare Lui se la sa giocare Se la sa giocare Se la sa giocare Gli do un altro hit Due hit potenti Mi so killato da solo Non ci credo ragazzi Mi sono killato da solo Con la mia stessa bomba Non l'avevo vista Mamma mia che game Che game che avevamo fatto Er devasto In questo game Il gel devasto Abbiamo sbloccato pure Un nuvolissimo livello del pass Bene 50 monetine Che fanno bene Stiamo avanzando Ci servono per sciopare Vediamo cosa c'è nel negozio Niente di che Forse il gattino Lo possiamo prendere così Per portarcelo avanti Con l'esperienza Bello sto pacchetto Prima o poi me lo scioppo Ragazzi lasciate per favore Un bel like Così da farmi sciopare Perché non è possibile Mi trovo sempre contro Quelli con i personaggi Mitici superiori Quelli OP Non posso giocare in questo modo Sono troppo forte In confronto a me Ho bisogno di sciopare Una bella scioppata Di quelle potenti Ma mi sa che questo è FK Mi sa che è FK Ragazzi avrei potuto approfittarne Ma comunque Comunque già siamo In un bel vantaggio Dai che lo killo Lo killo subito Lo killo subito E white Perfetto Prima kill fatta Meno male perché è FK Però ragazzi Ad esempio Qua la scimmia mi avrebbe distrutto Perché la scimmia E' davvero devastante Mamma mia Qua me l'ha fatta Me l'ha tornata indietro Ma gli do un'altra hit qua Con il mio bel tridone Due hit di nuovo Un'altra hit Che la dove ragazzi Sto facendo il devasto Non mi puoi contestare Te lo posso fare ragazzi Tekendo Tekendo Ti metto alle strette Manca l'ultima Tu mamma mia ragazzi Che win Ragazzi vi ricordo E lasciate un bel extra Nel canale E noi ci vediamo Ad un prossimo video Di Bombergrounds Ciao 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 ciao